Barbarano Vicentino. Sono terminate le operazioni di spegnimento e di bonifica dopo l'incendio divampato nel fine settimana. L'allarme è partito da un'azienda agricola in via Rampezzana dove una stalla è andata a fuoco. Fiamme, fumo alto, i pompieri sono accorsi in forze dall'Onigo, da Vicenza e da Este con i volontari di tiene, con tre autopompe, due autobotti e 19 vigili del fuoco. Tutti gli animali sono stati fatti uscire dalla stalla, alcuni purtroppo sono rimasti feriti. Una persona dell'azienda agricola nelle prime fasi dell'incendio ha respirato del fumo ed è stato necessario l'intervento del personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche il servizio veterinario dell'ULS. In corso le operazioni di bonifica del luogo ai vigili del fuoco spetta ora di determinare le cause dell'incendio.